... Incidente nella mattinata di domenica 20 febbraio, poco prima delle 12.30, ad Aglie, sul rettilineo che conduce a Bayro, a scontrarsi una Fiat Grande Punto e una moto Kawasaki. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte, l'edì soccorso del 118 e i carabinieri di Aglie. Il centauro, in seguito all'impatto, è caduto a terra. Incosciente è stato subito soccorso dai sanitari. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale CTO di Torino in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. ... Grazie per la visione Grazie per la visione